Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, rallentamenti per traffico tra Pistoia e Firenze Ovest in direzione di Firenze. In A12 sono due i chilometri di coda per lavori, tra Versile e Massa nella carreggiata verso Genova. Rallentamenti per cantiari anche in Fipili, tra Empoli Est e San Miniato verso Livorno. Per traffico, rallentamenti all'altezza di Firenze e Scandici in carreggiata opposta. Uno sguardo alle statali sulla stelle 715, raccordo Siana-Bettolle, scambio di carreggiata per cantieri tra Rigomagno e Sinalunga e Serre di Rapolano. Segnale meno oltre la chiusura dello svincolo in uscita di Asciano. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, informiamo che le biglietterie di Montecatini Centro e Sesto Fiorentino quest'oggi sono chiuse al pubblico. Muoversi in Toscana infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!